Dopo decenni d'oblio, dagli anni 1980, grazie alla tenacia di alcuni volenterosi e intraprendenti vignaioli, il vino d'Ertona è protagonista di una grande riscoperta. Segnalato nelle carte dei vini dei migliori ristoranti italiani e stranieri, questo vino riscuote sempre più consensi e con Barbera e Cortese è il fiore all'occhiello dell'attuale vitivinicoltura tortonese. Parte del patrimonio ampelografico, disciplina che descrive dal punto di vista della morfologia esterna i differenti vitigni e li classifica secondo determinati criteri, di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e denominato nella documentazione archivistica anche Timoraccio, Timorosso, Timorazza, Morasso, Timuassa, si presume che quest'antico vitigno sia originario di una zona tra la Liguria e il Piemonte, individuabile tra Novi Ligure e Tortona. Nel bollettino ampelografico del 1885 dedicato alla cultura dell'uva da tavola in Italia, nel tortonese era segnalato con il cortese tra le uve bianche più coltivate e classificato come una varietà di vitigno a doppia attitudine da tavola e da vino. Pochi territori si identificano così profondamente con un vitigno come il tortonese. In meno di vent'anni, dal 2000 ad oggi, le vigne di Timorasso sono passate da un'estensione di circa 3 ettari ad oltre 150 ettari, testimoniandone una crescita esponenziale in termini di visibilità e autorevolezza. Trent'anni di vendemmie, di sperimentazione e il dialogo che le aziende agricole hanno intrapreso lungo questo percorso, l'arrivo di aziende a Valenza internazionale hanno permesso di capire la necessità di investire sul nome d'Ertona che sceglie di svincolarsi dal nome dell'uva, Timorasso, per tutelare un vino o meglio un vitigno, esaltando le sue caratteristiche uniche e la peculiarità di vino ottenuto completamente in vigna, legando indissolubilmente il Timorasso al suo territorio, come avviene per tutti i grandi vini. D'Ertona rappresenta quindi una visione globale e futuribile di protezione, comunicazione e rispetto per terra e storia. D'Ertona infatti richiama l'appartenenza al territorio, la sua tradizione storico-culturale, la natura, l'unicità e la qualità del prodotto, in modo semanticamente trasparente. Timorasso sta a Nebbiolo come D'Ertona sta al Barolo. Quello che noi italiani non abbiamo mai capito è che il vino non deve prendere il nome dall'uva, perché i grandi vini che sono tutti nati col nome della terra sono il Barolo, il Chianti, il Valpolicella, l'Est-Est-Est, insomma tutti i vini italiani che si sono fatti un nome nel tempo, senza necessità di leggi, sono vini che hanno riportati i nomi della terra, della zona nel loro nome del vino. Il Consorzio per la tutela dei vini rappresenta tutte le realtà produttive del territorio ed è autorizzato al controllo della denominazione DOC Colli Tortonesi. Inoltre una rete di cantine distribuite in tutti 42 comuni facenti capo a Tortona è uno dei punti di forza del tessuto economico del territorio.